E allora ritorniamo insieme perché abbiamo da andare a fare un approfondimento con un collegamento in diretta da Assisi dove l'ordine francescano secolare rielegge il nuovo Consiglio Nazionale e in collegamento con noi Tibor Causer, Ministro Generale OFS. Buongiorno Tibor. Buongiorno, saluto tutti che stanno guardando questo progetto di TV Padre Pio. Grazie, grazie a te per la disponibilità a parlarci dei lavori che sono iniziati ad Assisi qualche giorno fa, se non sbaglio giovedì 2 maggio, capitolo nazionale dell'ordine francescano secolare d'Italia, l'appuntamento che vede i laici francescani riunirsi per eleggere coloro che guideranno la Fraternità Nazionale nel prossimo triennio. Come sta andando, come sono andati i lavori in questi giorni? Il lavoro sta andando molto bene. Vorrei dire che questo è un capitolo che è l'organo più alto governativo della Fraternità Nazionale che anche significa che non solo prendono le decisioni, ma anche questo è un incontro spirituale, un incontro di fraternità per condividere le loro vite e le loro idee per il futuro. Penso che questo è anche importante, se non più importante, che eleggere alcuni in governo. Carissimo Tibor, infatti il tema di quest'anno è davvero molto bello ed è in linea con quanto appunto ci stavi raccontando. Il coraggio di sognare insieme una fraternità generativa. Come si so dire? Un titolo, un programma? Sì, da questo titolo sottolineerei la fraternità generativa, che una fraternità sempre deve generare qualcosa dai pensieri, dalla spiritualità, dai membri per guardare al futuro. Questo è molto importante perché un capitolo non è un gruppo di lavoro per risolvere le cose, i problemi, ma per guardare al futuro e generare qualcosa, generare progetti e avere una visione. Ed è assolutamente giusto quello che dici, è condivisibile. A conclusione dei lavori di cui ci parlavi, dei momenti di preghiera, di fraternità, oggi pomeriggio poi si terrà la fase elettiva vera e propria che porterà l'OFS d'Italia ad eleggere il suo nuovo Consiglio nazionale. Ecco, che cosa c'è all'orizzonte? Ogni volta quando c'è un'elezione, io sempre dico che un Consiglio è una piccola fraternità e quando si elegge ogni capitolare deve pensare un po' di questo, che è una fraternità che certamente ha una responsabilità, ha un servizio, ma anche è una fraternità che deve mostrare questo spirito francescano, questo spirito secolare e questo spirito di fraternità. Come si può collaborare, come si può vivere insieme questa spiritualità secolare? Noi, voi siete ad Assisi, noi quest'anno celebriamo i centenari di San Francesco, no? Che clima si sta respirando nella città del patrono d'Italia? Lo spirito di Assisi è sempre grande. Per me, che vivo fuori d'Italia, è sempre una gioia di ritornare ad Assisi, al ponte della nostra spiritualità. Questi anni, quando celebriamo questi centenari francescani, lo spirito della città è ancora più grande, più profondo. Penso che ognuno che viene qui ad Assisi ha un molto ben motivo per venire qui, non solo per visitare la tomba di San Francesco e visitare la città, ma ricordare ai tempi passati che cosa abbiamo vissuto negli ultimi 800 anni, che cosa possiamo imparare per il futuro e cosa possiamo vedere per il futuro. Molto bene, molto bene Tibor. Questi lavori si concluderanno domani, domenica 5 maggio, con la celebrazione eucaristica nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, che sarà presieduta da Monsignor Francesco Savino, Vicepresidente CEI. Ecco, una volta conclusi i lavori, il nuovo Consiglio nazionale si insedia, inizierà a lavorare. Ci sono già degli appuntamenti per questo 2024, delle tappe prestabilite o è un futuro tutto da scrivere, anche in termini programmatici proprio? Sono sicuro che la programmazione è il compito del capitolo, non quello del Consiglio, ma del capitolo. Quindi il capitolo deve ancora trattare i temi principali per quest'anno e anche per il futuro. La Santa Messa domani, a domenica, sarà un'eccellente conclusione di questo lavoro, chiedendo la benedizione del Signore e inserirendoci nella Chiesa in modo più profondo. Questo anche perché l'anno che ci aspetta, l'anno prossimo sarà l'anno del Giubileo, il Giubileo del 2025, per cui ci saranno sicuramente ancora più stimoli a fare bene, a coinvolgere tutta la vostra comunità e attraverso il vostro lavoro, la vostra testimonianza, appunto coinvolgere tutto il popolo di Dio. Tibor, allora io ne approfitto per augurarvi buon lavoro, buon proseguimento di lavori capitolari e poi buon lavoro per quello che vi aspetta già a partire da domani. Grazie per essere stati con noi. Grazie per la possibilità e grazie per l'attenzione e vi chiedo di pregare per noi al capitolo. Grazie. Grazie a te. Non mancherà la nostra preghiera. Voi salutateci Assisi e il nostro Santo Padre Francesco. Adesso ci fermiamo per qualche istante e poi ci ritroviamo insieme per la parte finale del sabato di Just Today. A tra pochissimo.